Sul posto si è recato anche il presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Sentiamolo. Ho deciso, non lo so perché non era nostra, però erano sicuramente 6-7. Da un anno a questa parte, perché sono stati 4 morti, è evidente però che non si può andare avanti così. Bisogna fare un punto vero con le forze sociali, con gli imprenditori, con le istituzioni e capire quello che si deve ancora fare.